Ok, ora vediamo invece la versione lunga della texturizzazione dell'anello perché una cosa che è importante da osservare è che questo anello è composto da 9000 vertici ed è un pochino esoso portato su Second Life costa, anche se ridotto, un sacco di prim, di land impact quindi occorre trovare un metodo per semplificare questo anello qui è tutto un discorso di modellazione ed essendo una forma abbastanza semplice ci darà l'opportunità di spiegare alcune cose semplici innanzitutto prima abbiamo visto che abbiamo dovuto cambiare il nome dell'oggetto quindi ad esempio qui c'era un carattere strano, questo carattere rendeva difficile anzi impossibile perché mi dava errore l'import su Second Life ma se notate comunque abbiamo una cosa, cioè che questo anello è molto grosso in particolare notate che è allora lo selezioniamo magari in qua e vediamo che è largo, lungo la X è 116 metri 116 metri lungo la Z è 29 metri quindi è enorme rispetto a dove ci sono le telecamere e la nostra luce e questo è un po' un problema quindi noi dividiamolo per 100 quindi anziché 116 lo facciamo diventare 1.16 1.16 e poi anziché 29 facciamo diventare 0.29 ok quindi a questo punto vedete che l'anello è diventato sempre un pochino grosso quindi nell'ordine del metro però è all'interno della nostra scena quindi se vedete noi lo possiamo anche fotografare in particolare possiamo fare F12 per vederlo vedete che adesso qui si vede tranquillamente ma dobbiamo ricostruirlo in realtà per ridurre il numero di vertici ora il modo migliore per ricostruirlo è quello di prendere una sezione di questo vedete non è proprio un toro se io volessi fare un anello da zero potrei inserire un toro che è la figura che ci assomiglia allora prendere avanti un piccolo trucchetto che non tutti conoscono di Blender nella modellazione allora ogni oggetto vedete che è caratterizzato a tutti i suoi punti ed ha un'origine cosiddetta che normalmente è nel centro dell'oggetto però a seguito di alcune trasformazioni potrebbe essere non centrato il fatto che non sia centrato diventa un problema ad esempio in questo caso l'ho fatto io, ho messo a caso il centro, l'origine, è messo decentrato e quindi alcune operazioni tipo l'alt g che c'entra l'oggetto vedete che mi mette sì l'origine al centro ma l'oggetto non è centrato sull'origine quindi noi dobbiamo fare in modo tale di mettere l'origine nel centro di massa dell'oggetto questa è un'opzione che ci permette di fare il transform origin to center of mass vedete a questo punto ho messo l'origine nel centro di massa facendo quindi a questo punto alt g che è il metodo per centrare l'oggetto sugli assi cartesiani che vedremo che è utilissimo vedremo che l'oggetto viene allineato esattamente come me lo aspetto ora a questo punto però perché vi ho fatto tutto questo discorso? perché voglio ricostruire questo anello riducendo il numero di vertici per fare ciò la metodologia è quella di prendere una sezione dell'anello di estrarla fuori e poi di ridurre il numero di punti di cui è composto e poi farla ruotare per ricostituire un altro anello con una quantità di vertici più bassa quindi come facciamo? andiamo in edit mode quindi tab andiamo a selezionare soltanto uno degli anelli corrispondenti quindi lo facciamo con alt e cerchiamo di selezionare non questo ecco selezioniamo semplicemente un anello da cui è composto poi questo anello cerchiamo di isolarlo quindi di fare una di prunarlo cioè di cancellarlo dalla mesh originaria dovrebbe esserci un normals dovrebbe esserci un prun da qualche parte vertices ok e qui abbiamo separate P vedete che separiamo la selezione quindi P selection quindi a questo punto in realtà qui non si vede ma abbiamo due oggetti quindi se noi andiamo in edit mode vedete che abbiamo selezionato l'oggetto questo qua però se lo separiamo vedete che ci è rimasto l'altro oggetto che è questo che lo teniamo rigorosamente al centro cioè nella posizione in cui vedete che è rigorosamente in posizione nella posizione in cui potrebbe essere e a questo punto andiamo con set dall'immagine dalla cima e cerchiamo semplicemente poi di farlo ruotare tutto attorno per ricostruire l'anello però prima di farlo abbiamo detto che vogliamo ridurre quindi andiamo in 3 e lo vogliamo vedere lateralmente in modo tale da vedere vedete che è composto da 64 vertici decisamente troppi quindi qui la tecnica è quella di ridurre i vertici selezionando un vertice ogni tot quindi facciamo questo poi questo poi questo e così via e l'idea è quella di cancellare parecchi vertici facendo così diventa un po' lungo quindi c'è anche un sistema che permette di selezionare un vertice ogni n e lo si fa quindi facciamo facciamo con lo spazio e poi l'opzione si chiama checker deselect in origine si chiamava in un modo diverso era select every nth quindi seleziona uno ogni tot gli hanno cambiato nome recentemente è diventato checker deselect quindi facendo checker deselect ok bisogna però selezionare tutti i punti e poi facciamo checker deselect e vedete che lui mi seleziona automaticamente un punto ogni due che è esattamente quello che vogliamo fare se vogliamo selezionarne uno ogni tre ad esempio vedete oppure uno ogni quattro e così vedete che abbiamo praticamente selezionandole uno ogni quattro abbiamo più o meno la stessa silhouette ma abbiamo usato molti meno punti avendo selezionato un punto ogni quattro dobbiamo cancellare tutti gli altri per cancellarlo dobbiamo fare ctrl i che inverte la selezione quindi vedete che mi cancella tutti quei punti in più e poi faccio cance e cerchiamo di fare il dissolve dei vertici allora dissolve dei vertici praticamente ci dissolve i vertici ma ci fa rimanere la nostra figura originale vedete che questa qua è la tecnica a questo punto ci allontaniamo rivediamo il nostro oggetto dall'alto e proviamo a fare quel discorso vedete che adesso siamo soltanto 16 quindi ho ridotto per 4 i vertici e proviamo a farlo girare tutto attorno per farlo girare tutto attorno basta fare selezioniamo tutti i vertici e poi facciamo questo trucchetto di spin allora facciamo lo spin lo spin dunque ecco che diventa importante dove è il cursore vedete che il cursore se lo metto in una posizione piuttosto che in un'altra quando faccio lo spin lo spin viene fatto attorno al cursore quindi ctrl z se il cursore lo metto qua gli faccio lo spin vedete che il mio oggetto cerca di rotolarsi attorno al cursore questo è il motivo per cui devo trovare un modo per mettere il cursore esattamente al centro ed è il motivo per cui prima abbiamo dovuto fare in modo tale che l'oggetto avesse il punto centrale e l'anello anche il punto centrale allora per mettere il cursore basta andare in snap cursor to o to selected vedete ah no to selected te lo mette qui ed era la modalità sbagliata invece snap selection no cursor to center eccolo e vedete che il cursore va esattamente al centro quindi a questo punto quando facciamo il nostro spin vedete che viene fatto lo spin tutto attorno ora noi vogliamo fare in modo tale che faccia tutta l'angolatura 360 e vogliamo che ci siano adesso vedete che così è troppo fatto male nel senso che è troppo angolato dobbiamo aggiungere una quantità di steps quindi anziché vogliamo farne magari se vogliamo farne uno step ogni 10 gradi no facciamolo dovremmo mettere 36 step se no facciamo ogni 24 che dovrebbe ancora andare bene quindi ogni 24 vedete che viene eseguito effettivamente un anello allora enter quindi completa la trasformazione e vedete che abbiamo costruito effettivamente un anello che sembra un po' quello che vogliamo facciamo F12 beh più o meno però vedete che è un pochino è un pochino diciamo squadrettato allora la tecnica per farlo normale è quello adesso vedremo di smutarlo però vedete che c'è un difetto il rendering si vedono delle parti trasparenti quindi la prima cosa da fare è selezionare il nostro oggetto e fargli ricalcolare le normali quindi ricalcolare le normali non è qua ma era non ce l'abbiamo qua quindi dobbiamo andare in edit mode e qua sicuramente abbiamo le normali eccola qua normali ricalcolate facendo ricalcolate delle normali magari selezionando tutto ricalcolate ecco vedete che non c'è più quel buco quel buco tra l'altro esisteva in quanto abbiamo la visualizzazione che abbiamo messo nell'esempio precedente GLSL textured solid ricordiamo che abbiamo questa posizione allora qui dicevamo che l'oggetto viene un po' squadrato ci sono effettivamente meno vertici abbiamo soltanto 400 vertici vedete quindi molti di meno di prima però la qualità sembra più piccola quindi per riuscire a renderla un pochino meglio è sufficiente o in object mode o in edit mode andare a fare smooth smoot facendo lo smooth vedete che abbiamo effettivamente un anello che sembra sembra essere simile a come lo vogliamo infatti visto soprattutto da lontano insomma occupa pochissimi prim e non possiamo dolerci di questo ovviamente adesso ho fatto un esempio un po' estremo nel senso che gli ho messo solo 24 se voi invece di 24 gli aveste messo 36 veniva un pochino più limpido allora niente a questo punto lui è a posto salvo che gli manca l'UVMAP quindi perché se noi andiamo a vedere qual è l'UVMAP associato a questo oggetto quindi facciamo un quindi facciamo innanzitutto la prima cosa un reset dell'UVMAP quindi andiamo prendiamo un'immagine normale per esempio questa qui è la texture ora vedete e qui abbiamo selezionato tutti i punti e gli abbiamo fatto una con U un reset vedete con il reset l'immagine è stata applicata ad ogni faccia invece a noi interessa fare in modo tale che avere tutte le facce che raccolte qua in pratica fare un quel mestiere di un VRAP che abbiamo visto anche prima nel video precedente la cosa migliore essendo tutte quad ed essendo tutte ortogonali fra di loro è di fare il follow active quads e di dirgli di usare event event che vuol dire che gli fa tutti i quadrati uguali vedete che a questo punto abbiamo ottenuto eccolo qua questo è lui praticamente ha seguito tutti i quadrati e ci ha fatto diciamo questa griglia che è però troppo grossa quindi dobbiamo ridurla quindi per ridurla selezioniamo tutto e poi facciamo S facciamo S e cerchiamo di ridurla in maniera tale che G ok l'ammettiamo che lui sta cercando di fare in modo tale che ci stia perché dalla volta prima abbiamo constraint to image bounds quindi a questo punto la spostiamo al centro la ingrandiamo ecco allora qui possiamo fare S X no facciamo facciamo S Y quindi cerchiamo di no qui ci dà fastidio la la constraints quindi proviamo a metterla un po' centrata così facciamo S X la indirizziamo in modo tale che sia all'interno G quindi vedete che sto cercando di fare in modo tale che la UV map coincida S Y che sia coincida con ok adesso forse possiamo anche tornare a mettere la constraint perché facciamo S X e poi S Y ok comunque l'importante è che appunto sia più o meno tutta all'interno a questo punto poi tornano i concetti della volta precedente quindi accertiamoci di aver fatto che ci sia il materiale associato c'è che ci sia un materiale che abbia la face texture implementata quindi facendo l'F12 vedremo che ci sono i due anelli i due anelli sono praticamente indistinguibili poi adesso qui con le nuove funzionalità della 268 possiamo anche avere la visualizzazione renderizzata che ci dovrebbe far vedere meglio gli anelli magari ci mettiamo una luce allora qui mettiamo la luce questa la mettiamo tipo EMI ok in modo tale che dovrebbe illuminare un po' meglio quindi con il render si vedono i due anelli e come vedete la differenza nel rendering dei due anelli nonostante che siamo passati da 400 vertici anzi da 9000 vertici a 400 e tale per cui non c'è differenza quindi è possibilissimo utilizzare questa opzione essendo un anello molto piccolo anche se c'è comunque un pochino più di squadrettatura non si nota molto se notate c'è comunque questo effetto questo effetto è dovuto al fatto che la texture di origine è una texture che non è seamless cioè non è diciamo disponibile organicamente a griglia e quindi ci sono dei punti in cui fa questo effetto per evitare questo effetto bisogna far trasformare la texture in modo tale che non abbia sim cioè non abbia raggi visibili e questo si può fare facilmente in Gimp oppure con qualche altro trucchetto ma lo vedremo un'altra volta di un'altra volta